E' un po' di tutto, dal battitore libero che fa da sé e spesso sprende delle grandi musate al professionista o all'azienda dotata di strumenti capaci, quindi strumenti di sondaggio, di preparazione, eccetera, eccetera. Come comunità purtroppo anche per l'orografia della Slovacchia è un problema abbastanza, diciamo che non c'è comunità perché la Slovacchia lunga 500 km e larga mediamente 100 km per cui gli italiani sono dislocati abbastanza in linea in linea orizzontale attraverso diverse comunità. L'italiano però normalmente, e lo vediamo anche in Italia, tende a lavorare tutto il giorno, chiudersi in casa nella sera e non fare comunità. Questo è abbastanza un peccato. Del resto per noi la Slovacchia come lo è per me è un reparto di produzione, nel senso che io il weekend lo passo in Italia, la settimana lavorativa la passo in Slovacchia, per cui in queste settimane i tempi sono talmente tirati che la sera non è che ci sia tempo di dire facciamo comunità, eccetera, abbiamo fatto anche nel tempo un po' di quello che non sia solamente operatività, lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.